Uno, pronti! Via chi lo uomo e chi lo donna! Dale! Tre, preparo il santa, via! Dale! Dale! Quando arrivo, arrivo! Vavuta, amore! Ocino! Pronto! Dale! Vavuta e promenade! E! Ancora! Pronto! andiamo andiamo e andiamo giro 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 manita andiamo 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 pronti pronti via giro uomo e giunta ame pronti per il 70 via ame pronti pronti per la babosa via con il diretto rotolo sale pronti per la babosa via tronti via tronti rotolo bene pronti per la mente una base completa via giro uomo giro uomo mano giro uomo tre pa giro ancora rotolo ultima volta pronti fate fate l'ultima volta tutta eh mano e uno due tre se lo facciamo uno due tre prendimi da uno ok via giro uomo per la babosa rame riparo mi canta via va rame va volta avisa 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 avisa